Ad un anno dalla morte del cardinale Carlo Caffarra, giovedì scorso, l'arcivescovo Matteo Zuppi ha tenuto nella cattedrale di San Pietro una messa in suffragio. Alla celebrazione erano presenti, fra gli altri, anche le sorelle del defunto porporato Norma e Anna Maria. Fra i vescovi concelebranti era presente anche Monsignor Massimo Camisasca di Reggio Emilia Guastalla, che ha tenuto l'omelia. Ci siamo conosciuti tanti e tanti anni fa, circa 40 anni fa. Io ero un giovane studente dell'Università Cattolica, lui era un giovane insegnante di teologia morale all'Istituto di Scienze Religiose, al Dipartimento di Scienze Religiose, e quello fu il mio primo incontro, quindi quello conobbi come insegnante rigoroso, studioso, sistematico, ma anche appassionato. Infine è diventato arcivescovo di Ferrara, poi di Bologna, però tutte le volte che veniva a Roma, io ho continuato a vivere a Roma, veniva sempre a casa mia in via Boccea, le cene erano molto belle, parlavamo un po' di tutto, insomma. Poi sei anni fa, quando sono diventato vescovo di Reggio Emilia, ebbene sono entrato qui in questa regione episcopale, quindi ho avuto una nuova consuetudine con lui, che è stato anche il vescovo che mi ha consacrato vescovo. Il Cardinale Caffarra ha avuto anche un rapporto di forte collaborazione con San Giovanni Paolo II, ha dato un grande apporto, penso di non rivelare nessun segreto, insomma, alla Familiaris Consorzio. Il Cardinale alla fine si rammaricava molto del fatto che un grande patrimonio di magistero venuto fuori da San Giovanni Paolo II, oggi sia un po' dimenticato e trascurato. Ma io penso che i pozzi, quando sono profondi, hanno stagioni diverse nella vita degli uomini. Il magistero di Giovanni Paolo II è talmente ricco, è talmente profondo, che ne abbiamo conosciuto soltanto una piccola parte, come la punta di un iceberg. La storia mostrerà la fecondità di prospettive di questo grande Papa. È stato un grande uomo di coscienza, al punto che alcune volte noi bolognesi lo vedevamo quasi somatizzare le sue sofferenze. Sì, un uomo tormentato. Questo era un aspetto di Caffarra, è vero, bisogna dirlo. Io penso che il motto episcopale del Cardinal Martini, tratto da Gregorio Magno, pro veritate adversa di ligere, amare anche le avversità in nome della verità, sia in realtà la descrizione della vita del Cardinal Caffarra. Quando il Cardinale predicava c'era sempre un aspetto positivo, ma sempre anche un aspetto di messa in guardia. Parlava sempre di rischi, vedeva sempre rischi all'orizzonte. Lui amava, d'altra parte, il metodo otomista, vedere il set contra dopo aver esaminato gli aspetti positivi. E in questo modo voleva mettere in guardia tutti noi che lo ascoltavamo da una lettura superficiale della realtà. Alla fine, negli ultimi eventi, ha manifestato in fondo, a suo modo, oltre alle sue rigore di coscienza, anche un fortissimo amore per la Chiesa e per il Papa. Sì, soprattutto per il Papa, perché in realtà i dubbi erano un segno di attaccamento al Papa. Al termine del rito, Monsignor Zuppi, con celebranti e i fedeli, si sono recati nella cripta per la benedizione alla tomba del Cardinale, che riposa accanto al predecessore Giacomo Biffi nel sepolcreto degli arcivescovi bolognesi. Credo, risolverò questo mio corpo verrà in salvatore. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.